Cambia il nome, ma cambiano anche i criteri di accesso e la platea dei beneficiari. Secondo quando anticipato dal Corriere della Sera, la riforma del reddito di cittadinanza è pronta. Nelle prossime settimane la Ministra del Lavoro, Elvira Calderone, dovrebbe portare in Consiglio dei Ministri il decreto legge. Il testo è al vaglio del Ministero dell'Economia, perché per fare tutto, compreso l'allargamento della platea di lavoratrici ammesse opzione donna e il rafforzamento delle politiche attive, servirebbe quasi un miliardo di euro. Il nuovo strumento di sostegno sociale, la cui partenza è prevista a settembre, si chiamerà MIA, Misura di Inclusione Attiva. La misura scatterà già quest'anno, dopo i sette mesi di proroga, accordati ai beneficiari del reddito di cittadinanza con la legge di bilancio 2023. La MIA si dovrebbe quindi poter chiedere d'agosto più realisticamente dal primo settembre, come spiega il Corriere della Sera. I potenziali beneficiari in linea con quando deciso con la manovra verranno divisi in due platee, famiglie povere senza persone occupabili e famiglie non occupabili. Le prime sono quelle dove c'è almeno un minorenne o un anziano o versessando un disabile. Le seconde quelle dove non ci sono queste situazioni ma almeno un soggetto tra 18 e 60 anni d'età. In entrambi i casi, però, la riforma prevede una stretta negli importi e nella durata del sussidio. Queste famiglie si legge e continueranno a ricevere un sussidio, la MIA appunto, il cui importo base dovrebbe restare di 500 euro al mese come nel reddito. C'è invece ancora discussione sulla quota aggiuntiva nel caso in cui il beneficiario debba pagare l'affitto. Il reddito prevede fino a 280 euro al mese. Con la MIA questa quota potrebbe essere alleggerita e modulata sulla numerosità del nucleo familiare, ma la stretta maggiore colpirà gli occupabili. Qui l'ipotesi che ha più chance è quella che vede l'assegno base ridotto a 375 euro. Abbiamo contattato l'assessore in merito Cettina Andaloro che attende di sapere con precisione di cosa si tratta e che interessa un notevole numero di famiglie.